E' tutto pronto per la quarta edizione degli European Master Games che si inaugura a Torino nel pomeriggio di sabato 27 luglio. I numeri illustrati dal comitato organizzatore nell'ultima conferenza stampa prima della cerimonia inaugurale parlano chiaro. Le 7500 iscrizioni di atleti provenienti da tutto il mondo, visto che i giochi sono open, sono un record mai raggiunto nelle precedenti edizioni. Se si considerano anche gli allenatori, le riserve, lo staff tecnico e altri figure indispensabili alla disputa delle gare, sotto la mole sono attese oltre 11.000 persone. Il fischio d'inizio è fissato per venerdì 26 luglio con le prime gare di calcio, calcio a 5, ciclismo, judo e tiro al piattello, con l'avvio del campionato europeo di handball. Fra gli iscritti una prevalenza della rappresentanza maschile con circa 5500 atleti e 2000 donne. Fra gli sport più praticati naturalmente l'atletica, il nuoto, la pallamano, la pallavolo. La rappresentativa più numerosa è quella italiana con oltre 2000 atleti. Seguono la Germania e la Russia ma sono nutrite anche le rappresentative degli altri paesi europei più importanti. Centinaia di volontari sono coinvolti. Elena e Michele sono solo due dei circa 300 volontari degli European Master Games. Avete formato di nuovo una bella squadra, Torino è abituata al volontariato sportivo ma avete certamente esperienze precedenti. Assolutamente sì, sia per i giochi olimpici invernali del 2006 sia i World Master Games del 2013 e poi la maratona di Torino e altre cose. Quindi siete una forza consolidata. Cosa vi aspettate da questo impatto di 7500 iscritti? Allora intanto di divertirci noi e loro e poi di essere utili a tutti quanti per uno svolgimento gradevole, piacevole per tutti. Perfetto Elena. Michele, il volontariato a Torino, in Piemonte, nel nostro territorio metropolitano è storicamente presente. Cosa possiamo dire ai giovani? Perché vedo tanti capelli bianchi tra i volontari degli European. Cosa possiamo dire ai giovani che magari sono a casa? Bisogna stimolarli nell'aggregazione, quindi nel riuscire a comunicare con tutti, con il prossimo indipendentemente dall'età. La mia esperienza è stata, come anche la collega, delle Olimpiadi del 2006 e faccio un volontariato anche su altri fronti, in ambiti aziendali e non. Comunque l'obiettivo, il must, a mio avviso deve essere l'aggregazione, il momento di aggregazione, quindi comunicare e crescere con gli altri. E ci sono anche volontari provenienti da altri continenti, come queste signore australiane a cui abbiamo chiesto il motivo della scelta di viaggiare per migliaia di chilometri per essere a Torino. Avevamo intenzione di venire in Italia per una vacanza. Abbiamo partecipato a gare dei Masters a Sydney e in Nuova Zelanda. Quando abbiamo saputo che gli European Master Games si disputavano in Italia abbiamo deciso di cercare di far qualcosa per l'organizzazione torinese. In Australia migliaia di persone partecipano alle gare dei Masters in una quarantina di discipline. è un fenomeno sociale. Noi siamo troppo anziane per gareggiare e lavoreremo per l'organizzazione nel settore dell'accreditamento. Noi siamo troppo anziane per l'organizzazione. Grazie mille. Grazie.